Un cordiale buongiorno dalla redazione di Muoversi in Toscana Info, in studio Andrea Biagioni. Traffico bloccato su tutta la 1, partiamo con la coda di 6 km causata da un incidente tra Firenze in Pruneta e Incisa Reggello in direzione Roma. Code anche a Firenze in Pruneta in entrata a causa del traffico intenso in direzione Bologna e code per traffico intenso anche tra Firenze Nord e il Vivio con la variante del Valico in direzione Bologna. E passiamo a Firenze, importante aggiornamento dalla tramvia dopo il blackout elettrico con l'interruzione del servizio della linea 1 a causa di un forte temporale, si annuncia il ripristino del servizio a pieno regime. Muoversi in Toscana Info è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie!